accessibilità senza pensieri consente di evitare sicuramente lo dicevamo le sanzioni da parte di Agile che sono sanzioni disciplinari e dirigenziali consente di evitare e forse è ancora più importante contestazioni da parte dei propri cittadini ricorsi da parte delle associazioni e poi anche una conseguente pubblicità negativa sappiamo tutti che quando ci sono incidenti di questo tipo quindi un cittadino con disabilità si sente discriminato e fa un ricorso ecco questo poi rimbalza poi sui media e questo ha anche una pubblicità molto negativa nei confronti del lente in cosa consiste il servizio lo dico brevemente sostanzialmente consiste di di tre parti il servizio attività di testing quindi andiamo a vedere se il sito diciamo lo strumento digitale continuo a dire sito però intendo anche app perché la normativa si applica a tutti gli strumenti digitale quindi non solo al sito istituzionale ma a tutti i portali della pubblica amministrazione tutti i vostri siti tematici tutte le app che che sono appunto di del del comune la verifica tecnica e la verifica soggettiva producono ecco un un output che è un report un report che poi noi vi consegniamo discutiamo assieme alla vostra software house alla vostra agenzia web e andiamo assieme quindi attraverso un'attività di consulenza che poi si sviluppa nel tempo a ottimizzare e a correggere eventuali criticità per che cosa? Per portare il sito alla conformità a quella famosa doppia degli standard WCAG 2.1 così come è previsto dalla dalla normativa e l'altra l'altra parte diciamo importante del nostro del nostro lavoro è quello di farci carico degli adempimenti annuali che le amministrazioni pubbliche devono realizzare ogni anno in materia di accessibilità e che sono sostanzialmente la pubblicazione della dichiarazione di accessibilità per ogni strumento digitale quindi per il sito istituzionale per le app per i siti tematici entro il 23 di settembre di ogni anno quindi entro il 23 di settembre di ogni anno la dichiarazione di accessibilità va aggiornata per quanto riguarda i siti mentre entro il 23 di giugno di ogni anno va aggiornata per quanto riguarda le app ci occupiamo poi di pubblicare gli obiettivi di accessibilità quindi che vanno pubblicati entro il 31 marzo di ogni anno quindi accessibilità senza pensieri è proprio in questo senso cioè l'obiettivo è quello di da una parte ecco essere conformi quindi alla normativa alla legge stanca alle successive modificazioni e di offrire un servizio chiave in mano dove sostanzialmente tutte le attività di regia di pianificazione di implementazione di correzione eventuale degli strumenti informatici e di realizzazione degli adempimenti sono a carico della nostra cooperativa ecco questo produce un effetto positivo ecco lasciatemi spendere solo due parole su questo l'accessibilità è inclusione ecco non è solo rispetto di una normativa non è solo rispetto di alcuni standard è inclusione delle persone con disabilità in realtà l'accessibilità esprime i suoi effetti positivi ecco su tutti i cittadini ma accessibilità significa anche rispettare i diritti fondamentali delle persone con disabilità ecco voi sapete che l'Italia ha ratificato la convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità siamo stati uno dei primi paesi a farlo e e quindi quella convenzione è legge ecco per il nostro per il nostro paese garantire diciamo la partecipazione alla vita sociale alle persone con disabilità è più facile attraverso il web pensate a quanto è complicato per una persona che ha ridotta mobilità o non vedente andare da solo a fare una pratica in un ufficio comunale no? magari non ha la patente deve farsi accompagnare deve prendere un taxi ha difficoltà a trovare l'ufficio ha difficoltà a compilare delle carte tutto questo può essere semplificato attraverso il web attraverso i portali attraverso i servizi digitali che voi avete costruito ma questo è possibile solo se questi strumenti sono accessibili ecco perché è così importante l'accessibilità digitale ecco non è solo il rispetto di alcuni standard tecnici non è facile fare accessibilità noi lo sappiamo sappiamo che voi ci mettete tutto il vostro impegno per darvi una mano abbiamo pensato di inserire nel servizio nella soluzione accessibilità senza persieri delle ore di formazione ecco questo perché perché ogni volta che voi pubblicate un contenuto si ripropone il tema dell'accessibilità ogni volta che voi pubblicate una delibera un pdf un video un testo sul vostro sito si ripropone il tema dell'accessibilità quindi chi pubblica deve seguire alcune linee guida deve essere consapevole di cos'è l'accessibilità ecco per cui vi proponiamo anche di seguire questi corsi di formazione che possono essere modulati e realizzati su misura per il personale dei vostri dei vostri comuni chiudo spendendo due parole sulla verifica soggettiva ecco perché è un po' l'aspetto peculiare ecco del nostro servizio direi forse anche un unico ma a livello nazionale verifica soggettiva significa che ci sono delle persone con differenti disabilità una persona non vedente una persona ipovedente una persona con sordità una persona con ridotta mobilità e una persona con dislessia che testano lo strumento informatico e cercano di fare delle attività sul sito istituzionale poniamo accedere a una procedura scaricare una delibera eccetera e segnalano quelle che sono le difficoltà che incontrano ecco vedrete che adesso il mio collega Fabio Lotti vi darà una dimostrazione ecco di cos'è una una verifica soggettiva ogni persona con disabilità testa il sito sia via desktop sia via mobile quindi utilizzando anche browser differenti e soprattutto utilizzando tecnologie assistive differenti Fabio a questo punto io ti lascerei fare una una dimostrazione appunto della della verifica soggettiva in che cosa consiste allora intanto anch'io vi auguro una buona giornata e vi ringrazio di essere qui presenti perché già essere qui presenti significa interessarsi di accessibilità l'accessibilità è un tema sempre più importante lo dimostrano le norme le leggi che stanno continuamente venendo aggiornate l'ultima risale a di fatto 12 mesi fa con un aggiornamento di accessibilità che espande gli obblighi non solo alla pubblica amministrazione in senso lato e dopo credo che il collega magari renderà opportuno fare una precisazione su chi è obbligato a fare questi adempimenti di accessibilità però non c'è più solo il pubblico ma viene coinvolto per la prima volta nel nostro paese anche il settore privato settore privato con un fatturato medio degli ultimi tre anni superiore a 500 milioni di euro che detta così sembrano poche aziende in realtà sono le aziende principali del nostro paese penso alle utility alle aziende di telecomunicazioni e via così questo per farvi capire anche qual è il trend quindi se accessibilità una volta era un criterio preferenziale sta diventando sempre più centrale per un motivo molto semplice che a livello europeo si sta battendo con forza il concetto che accessibilità è un diritto non è più ripeto un qualcosa di opzionale non è più un'attenzione riservata a pochi ma è un diritto che dobbiamo garantire per i nostri cittadini e di fatto anche per noi stessi perché io sono sicurissimo che anche tra voi partecipanti che ci state ascoltando in famiglia avrete sicuramente una persona anziana una persona con una disabilità un bambino una donna in stato di gravidanza quindi quando si parla di accessibilità non si pensano solo alle persone con disabilità ma anche banalmente agli stranieri perché non sono di madrelingua italiana infatti i contenuti che vengono caricati nei siti della pubblica amministrazione devono rispettare anche dei criteri di alta comprensibilità quante volte abbiamo sentito fare anche dai comici delle ironie sulla difficoltà di comprensione di ciò che viene scritto nei siti della pubblica amministrazione italiana con un gergo politichese burocratico ecco anche quella è accessibilità quindi ragionare in accessibilità significa migliorare la qualità dei servizi rivolti ai cittadini che di fatto poi siamo anche noi ecco io mi presento sono Fabio mi occupo in cooperativa di coordinare questo gruppo di lavoro che eroga i test di accessibilità sia appunto attraverso il computer sia attraverso i device come lo smartphone e il tablet Fabio scusami a proposito di questo Chiara Zaina del Comune di Gardone di Valtrompia chiede se l'accessibilità da considerarsi anche quando si pubblica una notizia su un social sì assolutamente certamente vi facciamo un esempio così ci addentriamo anche su cosa è la verifica soggettiva se per esempio un comune pubblica una foto dicendo lavori in corso e basta questa è la foto e magari fa la foto per esempio a Verona hanno iniziato da qualche giorno dei lavori su un ponte che deve essere messo in sicurezza pubblicare una foto per chi ci vede capisce che quello è il determinato ponte ma chi non vede vedrà una foto cioè sentirà dire dalla sua sintesi vocale immagine lavori in corso e dove è questo lavori in corso? Bene questo è un contenuto non accessibile perché chi è privo della vista non può capire il contenuto del messaggio come si fa a rendere questo contenuto accessibile semplicemente scrivendo attenzione lavori in corso in via Porta Nuova a Verona così abbiamo anche se io non vedo l'immagine capisco il contenuto del messaggio cioè che ci sono dei lavori in corso presso il ponte di via Porta Nuova che non esiste però era un esempio grazie alla domanda e ribadisco adesso inizierò a fare anche degli esempi concreti di non accessibilità se per caso li tratto in modo veloce o superficiale se c'è qualcuno che non è addetto ai lavori e ha bisogno di una ripetizione non palto che scriverlo in chat e sarò veramente molto lieto di essere più chiara ecco allora vi spiego un po' nella pratica proprio cosa succede allora innanzitutto per fare dei test di accessibilità non basta diciamo avere una disabilità ma bisogna essere esperti di accessibilità digitale questo è doveroso precisarlo quindi all'interno della nostra cooperativa abbiamo dei collaboratori che appunto vengono assunti perché i migliori del settore quindi abbiamo delle esperienze abbiamo degli esperti di accessibilità digitale che impieghiamo per fare queste valutazioni e ora vi faccio vedere anzi vedere e sentire un esempio perché condividerò lo schermo ma oltre a condividere lo schermo condividerò anche il suono del mio computer sul quale è installato un software un software di sintesi vocale questo software viene utilizzato dalle persone cieche o dalle persone diciamo ipovedenti per aiutare queste persone a leggere che cosa è il contenuto del monitor quindi una persona che non ci vede o fa fatica a vedere il contenuto del monitor ha un software che lo aiuta attraverso diciamo la voce a capire cosa appare sul monitor questo software è uno dei software che viene utilizzato per capire se il sito web è accessibile o meno se il sito web è accessibile questo software leggerà bene il contenuto delle pagine web se invece il sito web non è accessibile perché chi lo ha programmato si è dimenticato di mettere tutti gli attributi necessari previsti dalle linee guida allora il software incontrerà delle difficoltà allora partiamo subito ho scelto un comune a caso ho scelto un comune a caso lo specifico sin da ora per tutto quello che vi farò vedere il nostro scopo non è quello di puntare il dito per come dire criminalizzare incriminare le pubbliche amministrazioni quando facciamo questi test il nostro scopo è far capire alle pubbliche amministrazioni che così come sono stati fatti i siti non vanno bene e sono discriminatori quindi il nostro è dimostrare con la pratica come si può migliorare un sito web ora sentirete anche appunto una voce metallica che legge il contenuto del monitor comune di Ancona sito istituzionale del comune di Ancona comune di Ancona ho scelto il comune di Ancona ripeto pura dimostrazione per farvi sentire cosa può succedere nei siti web come si fa come fa una persona che non ci vede ad utilizzare un sito diciamo utilizza la tastiera di solito le frecce su e giù d'estra e sinistra oppure il tasto tabulatore il tasto tabulatore è quello che sta a sinistra della lettera Q di quadro che permette di spostare il focus quindi diciamo il cursore che appare sul monitor all'interno della pagina ora vi farò sentire cosa succede scorrendo con la freccia giù il comune di Ancona visitato link grafico comune di Ancona ha detto visitato link grafico quindi c'è un'immagine che probabilmente è lo stemma del comune di Ancona questo è un esempio di contenuto accessibile perché all'immagine è stato assegnato un attributo di testo alternativo ovvero il testo comune di Ancona quindi una persona cieca è ovvio che non vede il contenuto dell'immagine ma capisce in questo modo che questa immagine qui rappresenta lo stemma del comune di Ancona andiamo oltre visitato livello di intestazione un link comune di Ancona viene ribadito il link per tornare alla home andiamo oltre elenco di quattro elementi il software mi avvisa che tra poco ci sono quattro elementi vediamo quali sono link 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 sono quattro link vuoti quindi io che sto utilizzando il software da cieco non capisco che link sono lo posso immaginare perché come dire ormai ho maturato un po' di esperienza probabilmente sono i link ai collegamenti social del comune che non sono stati etichettati nel modo corretto quindi visivamente si capisce ma per chi utilizza uno screen reader quindi questo software per la navigazione non si capisce dove portano questi link quindi di fatto immaginatevi una porta chiusa senza la targhetta con scritto qual è il nome della stampa come si fa scusa ti interrompo solo un secondo volevo chiedere a chi ci segue se riesce a seguirti nel senso si vede bene secondo me il focus no il focus dello screen reader adesso è sulla stellina no sui social però insomma volevo avere un riscontro se se appunto riescono chi sta seguendo riesce appunto a seguire la tua la tua esposizione sì sì a meno per quanto mi riguarda sì benissimo grazie ripeto siamo consapevoli che sono alcuni termini alcune cose specifiche quindi se non sono chiaro scrivete alzate la mano siamo assolutamente qui per cercare di spiegare ecco e quindi questo tecnicamente è un contenuto non accessibile qual è il punto il punto è che è sufficiente i programmatori di questo sito è sufficiente andare a inserire probabilmente un attributo nel codice che è o l'attributo title oppure l'attributo alt e quindi in un secondo si scrive per esempio facebook si scrive twitter e allora anche chi utilizza le sintesi vocali sentirà facebook instagram telegram e via così quindi un altro concetto che vorremmo che vi restasse dopo questo webinar è che l'accessibilità è sicuramente un tema importante purtroppo non è così diffusa quindi ci sono molti errori di inaccessibilità ma allo stesso tempo che con delle indicazioni puntuali e precise che vi forniamo è anche facile superare queste criticità non è una sfida impossibile vado avanti per farvi sentire delle altre cose ecco avete sentito un suono questo suono è un suono specifico del software che fa capire all'utente che il focus quindi il punto focale del monitor si è spostato all'interno di un campo di testo quindi in una stringa dove l'utente può scrivere qualcosa ma che cosa può scrivere non si sa perché come avete sentito non è stato detto niente e questo perché perché manca un attributo che è un'etichetta che si chiama label è un termine tecnico se qualcuno tra di voi è programmatore lo riconoscerà questo label praticamente se io avessi scritto all'interno del codice scrivi qui la parola da cercare questo attributo sarebbe stato letto da il software con sintesi vocale il punto è che così facendo sono in un campo di testo ma non so che cosa devo scrivere non capisco dove mi trovo provo ad uscire da questo campo e intuirlo in un altro modo vediamo vado giù ancora proseguo nella navigazione pulsante pulsante bene questo qui è un pulsante anche questo senza un'etichetta non si capisce che pulsante è probabilmente è il pulsante cerca che però a video magari si vede ma non si capisce se uno utilizza un'accento giocale e quindi le linee guida di accessibilità spiegano come tutti i pulsanti tutti i campi di testo devono essere etichettati in un modo coerente quindi qui dovrebbe probabilmente esserci un'etichetta che dice cerca pulsante poi lo vediamo in altri siti accessibili che questo si può fare ecco vado oltre regione di navigazione elenco di 9 elementi visitato link come link comune a getta sentite dice link quindi si capisce che questo attributa un link link amministrazione trasparente link ricerca link albo pretorio via così non si capisce perché non è specificato bene se questo menu principale diciamo ha un secondo livello cioè un sottomenu però andiamo oltre visitato link bandi di gara e con link servizi link come fare per link privati finito elenco ok finito elenco questo qui è un menu principale che di fatto hanno tutti i siti web cosa manca in questo sito manca la possibilità di saltare questo menu che è previsto appunto dalle linee guida perché chi ci vede con il colpo d'occhio riesce come dire a capire qual è il punto centrale della pagina quindi diciamo la parte centrale di solito della pagina con le prime notizie in prima pagina chi invece utilizza uno screen reader deve è costretto a navigare tutto quindi ora che si arriva al punto centrale della pagina passano minuti e questo ovviamente è per ogni pagina e non agevola la cosa per cui la linea guida che cosa suggerisce? suggerisce di inserire all'inizio della pagina un link che si chiama salta il contenuto principale così una persona che non vuole leggersi tutto il menu ogni volta preme quel link e la voce atterra nel punto centrale della pagina ecco anche qui non c'è tra poco vi farò vedere un altro sito dove invece è stato inserito andiamo in fondo alla pagina direttamente torno un po' indietro come i gamberi per farvi sentire che ci sono tutta una serie di contatti ma non c'è il link della dichiarazione di accessibilità quindi in questo momento il comune di Ancona non ha ancora pubblicato la dichiarazione di accessibilità quindi se ha di senacord passabile di sanzione perché non ha affatto questo adempimento entro le scadenze previste vi faccio sentire altre due cose andiamo su comune di Venezia questo non c'era nemmeno sulla comune di Ancona quindi la cookie policy che ci dice di accettare va fatta a vedere all'inizio quindi qua il comune di Venezia ha fatto una cosa ottima link accetto invio su accetto link news ed eventi link sulla stessa pagina vai al contenuto ecco vai al contenuto questo è quello che prima dicevo salta al contenuto principale in alcuni siti l'hanno chiamato vai al contenuto in alcuni salta al contenuto principale il concetto è quello se io do invio invio link sulla stessa pagina vai al contenuto 5 regioni 27 intestazioni livello di intestazione 3 link protezione civile mercoledì 24 novembre prova sirena vedete che mi ha fatto atterrare la voce mi ha fatto saltare tutto il menu principale perché non mi interessa e vado direttamente al centro della pagina dove c'è la prima notizia torno indietro che così vi faccio risentire un'altra cosa visitate link sulla stessa pagina link cancelletto menu link cancelletto qui c'è un link cancelletto anche questo è un link che non è comprensibile che cosa è anche qui si sono dimenticati di mettere il titolo a questo link quindi non si capisce di che cosa si tratta andiamo oltre menu mi dice menu quindi sto per entrare nel menu principale sentiamo cosa dice regione di navigazione elenco di sette elementi link Q home dice link Q home link Q il comune link Q il comune link servizio blinde qui no non c'è c'è direttamente il comune link news ed eventi news link Q per i cittadini Q per i cittadini vedete che c'è qualcosa che non quadra c'è anche a livello uditivo come mai qualche link dice Q e poi il nome del link e alcuni link invece non ci sono probabilmente anche qui per esperienza dove c'è la Q ci sarà un sottomenu però non è di facile intuizione ed il menu principale ovviamente è uno dei punti più importanti di un sito web istituzionale soprattutto quindi anche qui c'è qualcosa che non va bene va sistemata la semantica di questi link e le linee guida se si rispettano lo permettono per completare questa prima parte di verifica soggettiva vi faccio sentire il sito del comune di Aosta andiamo direttamente al menu principale ok vedete che hanno messo il testo alternativo sul logo del comune quindi si capisce bene ah qui hanno messo i titoli giusti ai link quindi si capisce che questo link porta a Facebook link Twitter link Telegram link Instagram e i vari social quindi questo lo hanno fatto bene link YouTube fine elenco cerca visitato link cerca regione di navigazione elenco di 4 elemi link chiuso amministrazione chiuso amministrazione link chiuso servizi chiuso servizi qui è chiaramente facile ed è piena accessibilità perché mi fa capire che questo menu in realtà ha un sottomenu proviamo a premere invio link chiuso amministrazione su amministrazione invio regione banner regione di navigazione elenco con 4 elementi amministrazione aperto link adesso mi dice aperto andiamo oltre con le freccette elenco di un elemento livello interno 1 link sindaco sindaco fine elenco delinquice sindaca vice fine elenco del consiglio comunale quindi avete sentito anche proprio con un esempio concreto la differenza tra un menu accessibile che è questo perché mi impiega bene anche a livello uditivo non solo a livello visivo quando un sottomenu è aperto o chiuso se c'è possibile aprirlo o meno rispetto ai due menu precedenti che in un caso proprio non si capiva se c'era la possibilità o meno e nell'altro caso invece c'erano delle avvisaglie che c'era un sottomenu però non era così chiaro ecco questi sono alcuni degli esempi poi c'è il tema del colore ci sono dei rapporti che spiegano come i colori utilizzati devono essere contrastanti tra di loro cioè deve essere facile individuare il testo di quello che si sta leggendo rispetto allo sfondo anche qui è molto facile cioè per un programmatore una volta che capisce cosa deve inserire deve solo cambiare un numero quindi a livello di codice invece di scrivere bianco 2 e rosso 4 scriverà bianco 2 e rosso 10 quindi è semplicemente necessario cambiare un numero e in pochi minuti si sistemano gli errori di contrasto di colore che sono utili a chi? alle persone che vedono poco agli anziani che magari fanno fatica a distinguere bene il contrasto di colori ma anche a tutti coloro che usano il sito dallo smartphone perché magari sono all'aperto dove c'è una condizione di luminosità molto elevata sono sicuro che a tutti voi è capitato di andare a prelevare al bancomat dove il sole batteva sul monitor del bancomat che non si capiva nulla di quanto bisognava digitare cosa c'era scritto sul monitor perché i colori scelti da quel programmatore di quel software erano poco contrastanti e magari tenui invece le linee guida di accessibilità spiegano come utilizzando dei colori contrastanti tra di loro viene facilitata la lettura anche in condizioni diciamo di forte luminosità oppure in caso di visione possiamo dire non proprio perfetta concludo questa trattazione con un altro tema che è sempre collegato all'accessibilità perché la famosa legge stanca la 4 del 2004 che ci spiega quali sono le linee guida che dobbiamo rispettare per creare contenuti web accessibili ci dice sì che dobbiamo stare attenti a questi siti che sono i siti pubblici quelli che vedono i cittadini ma oltre al sito in sé bisogna stare attenti anche al grado di accessibilità dei contenuti dei documenti che vengono pubblicati anche qui per farvi capire in modo proprio evidente ho scelto dei documenti a caso però per farvi capire di che cosa si tratta quindi vi apro dei documenti controlli esempi esempi bando punto pdf due di tre esempio negativo punto invio apro questo pdf ordine di lettura invio esempio negativo questo è un documento di un bando un concorso del comune di Campobasto scelto a titolo esemplificativo il software mi dice che sta elaborando tutte le pagine andiamo avanti leggiamo sempre con la famosa frezza andiamo giù due grafico intanto c'è già un due grafico che non si sa che cos'è potrebbe essere lo stemma del comune potrebbe essere un'immagine decorativa però non si sa quindi già qui c'è un elemento che non è stato etichettato correttamente andiamo giù città di Campobasto servizio gestione giuridica del personale determinazione dirigenziale copia numero 80 del 17092021 fino a qua sembra tutto bene come vedete anche una persona cieca può sentire qual è il contenuto di questo documento andiamo oltre oggetto acquisto tramite il dosumepa del servizio di supporto alle commissioni qui ve lo posso dire un po' io perché sono esperto è facile è difficile comprendere le parole perché sono attaccate cioè per chi ha redatto questo documento non è proprio del tutto accessibile infatti se andiamo oltre concorsuali da parte selezione delle risorse ma di un avvito pubblico reall'esplettamento di un città di campo il dirigente vado i io ora vado proprio giù di riga a riga sentite che spezza le parole non si capisce nulla è un documento che non è accessibile perché chi utilizza una sintesi vocale non capisce nulla in questo modo quindi come vedete anche se visivamente sembra accessibile poi facendo un controllo con i software che utilizzano le persone con disabilità si si accorge che c'è qualcosa che non quadra vi faccio sentire altri due esempi alt f4 esempio la graduatoria invio ordine di lettura invio la graduatoria di questo bando di questo concorso perché ero curioso di sapere chi ha vinto scorro diciamo il documento comune di campo basso protocollo generale n 007407 1 del 1 2 1 2 0 2 1 andiamo giù comune di campo basso protocollo generale n 007407 sembra di averlo già sentito andiamo giù comune di campo basso protocollo generale n rimane sempre qua quindi questo documento di fatto per chi utilizza una sintesi vocale è composto solo da questa riga qui ovviamente non è così a video vedete c'è la tabella con la graduatoria dei vincitori diciamo di questo concorso quindi questo documento è completamente non accessibile perché di fatto sembra un documento vuoto perché è stato fatto in questo modo cioè perché risulta non accessibile molto probabilmente perché o è stato scansionato e quindi tutte le scansioni di fatto sono non accessibili oppure sono stati redatti questi documenti senza rispettare le linee guida di accessibilità ecco perché il collega Marco diceva che all'interno del nostro servizio facciamo della formazione per insegnare come creare documenti web accessibili in modo che poi una volta che uno ha imparato non c'è più bisogno e siamo sicuri di creare contenuti web in questo caso documenti accessibili vi faccio sentire l'ultimo bando.invio documento un link bando.pdf3 grafico comune 3 comune di Campobasso bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato dn4 unita per il profilo di istruttore direttivo tecnico categoria giuridica di 1 art 1 indizione del concorso elenco di un elementi 1 in esecuzione della delibera di giunta comunale n303 del 9 dicembre 2019 e indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n4 posti questo è un documento accessibile perché volevo farvelo sentire perché sennò sembrava che non si potesse realizzare questa accessibilità l'accessibilità è assolutamente realizzabile questo è un documento accessibile ed è appunto chiara la differenza tra questo dove c'era la voce che leggeva bene rispettando la punteggiatura e tutto rispetto a quelli di prima dove o leggeva con le parole tutte attaccate oppure addirittura non si capiva nulla di ciò che c'era scritto diciamo a video ecco questi sono degli esempi molto veloci speriamo anche facili da comprendere capite bene che se io sono un cittadino e non riesco o a leggere un bando o a partecipare a un bando o a leggere un avviso subisco una discriminazione ecco perché accessibilità va a braccetto con la parola discriminazione la non accessibilità è la di fatto la discriminazione di alcuni soggetti che sono cittadini come tutti gli altri a cui viene negato il diritto di accedere alle informazioni della pubblica amministrazione e invece noi dobbiamo lavorare per garantire a tutti questo diritto ecco io mi fermo qua più che altro per timore di risultare un po' ridondante o essere pesante per cui ripasserai la parola al collega Marco Andreoli ma prima di diciamo chiedere a lui di proseguire mi piacerebbe ricevere anche da voi partecipanti dei feedback o delle domande piuttosto che delle curiosità se avete piacere potete o scrivere in chat o anche per me anche aprire il microfono esempio comuni di auto controlli ecco Fabio ad esempio stanno chiedendo in chat ti ringraziano e stanno chiedendo che software stai utilizzando ah allora questo software è un software questa domanda tra l'altro mi dà la possibilità di spiegare un altro punto il software si chiama JAWS scritto J di Jolly A di Ancona W di Windows e S di Savona JAVS è uno degli screen reader presenti sul mercato ce ne sono altri due almeno sempre in ambiente Windows c'è NVDA come Napoli W di Vicenza di Dario a Ancona NVDA mentre per i prodotti Apple lo screen reader si chiama VoiceOver se avete un prodotto Apple basta che andate su impostazioni sia del Mac piuttosto che dell'iPad o dell'iPhone impostazioni accessibilità vista c'è la possibilità di attivare il VoiceOver quindi potete volendo fare anche delle prove voi con questi strumenti per capire come si comporta il vostro sito con questi strumenti è ovvio che saranno dei test un po' rudimentali nel senso che bisogna un po' conoscere questi software si dopo correte il rischio di non riuscire più a usare il computer esatto se non riuscite a gestire lo screen reader poi Fabio ci chiedono ma posso anche rispondere io se sono gratuiti questi software dipende JAWS sicuramente non è gratuito ecco ha anche un costo importante se non sbaglio la licenza si aggira intorno ai 1000 euro NVDA invece è un progetto open source ed è gratuito VoiceOver è uno screen reader built in quindi è presente su tutti i dispositivi Apple e quindi acquistando il dispositivo Apple acquistate anche voi sopra a prescindere che poi voi lo utilizzate oppure no su questo Marco è bene ricordare che questi software non li devono mettere a disposizione i siti cioè se io sono un proprietario di un sito web del comune di Ancona non è il comune di Ancona che installa sul sito un software o dei software che le persone con disabilità devono utilizzare no non è così ogni persona con la sua disabilità ha il suo software installato sul proprio dispositivo io ho questo screen reader sul computer ho un altro screen reader sullo smartphone piuttosto che ci sono altri software come gli assistenti vocali per la dettatura eccetera il sito cioè chi gestisce i siti deve rispettare le linee guida per creare dei contenuti che siano leggibili e interpretabili da questi software quindi non siete voi che dovete mettere a disposizione i software nei siti ma ogni persona ha il proprio nel proprio dispositivo ecco Marco ci scrive io conosco anche Galileo che ha utilizzato da un collega nel mio comune sì ce ne sono anche altri di screen reader c'è anche WinGuido poi ci sono tutti i software che rientrano invece nella categoria dei dei sintetizzatori vocali o dei lettori quindi software di ingrandimento e lettore e lì ci sono ZoomText c'è Supernova insomma ce ne sono ce ne sono diversi ecco sicuramente i principali screen reader quindi quelli che hanno più quote di mercato ecco sono JAWS NVDA e VoiceOver detto questo è importante capire che ogni software ha un comportamento differente nel momento in cui interagisce con un oggetto un oggetto può essere un documento può essere un sito ok ed è per questo che sono nate le linee guida cioè per questo ci sono gli standard del V3C perché ci dicono progettando in questo modo siamo sicuri che tutti i dispositivi tutte le tecnologie assistive utilizzate dagli utenti riescono ad interagire a dialogare con il mio strumento digitale quindi è importante non anzi direi che non ha senso provare ad installare diciamo sul proprio sito dei lettori anzi a parte che non si può non si può fare diciamo per un sito si possono installare magari dei plug-in ecco che sono dei supporti alla lettura quelli sono disponibili magari su alcuni siti di giornali ecco ne ho visto qualcuno quelli sono dei supporti alla lettura non sono degli screen reader e sono diciamo uno strumento in più ecco che si può mettere a disposizione ma non è risolutivo ecco la cosa fondamentale è garantire che ci sia compatibilità fra lo strumento informatico e le differenti tecnologie assistive oggi adesso abbiamo parlato di tecnologie assistive per persone ciechi convedenti ci sono tecnologie assistive per persone con dislessia che hanno difficoltà nella lettura ecco utilizzano dei software specifici ci sono tecnologie assistive per le persone che hanno ridotta mobilità pensate a chi ad esempio utilizza i puntatori i programmi di dittatura e così via quindi è fondamentale che ci sia un linguaggio comune con cui tutte le tecnologie assistive possono interagire ecco un plugin è un di più diciamo che un comune può offrire ma non necessariamente questo soddisfatto anzi direi che molto spesso questo non è sufficiente perché non garantisce la compatibilità con le tecnologie assistive e non è conforme a quanto previsto dagli standard del V3C Sì direi Marco Scusa Fabio scusami ha chiesto di intervenire Claudio Comini di Cardone Valtrompia Sì Non sento Volevo chiedere questo se ho capito bene noi dobbiamo che nel caso di creazione di un sito del comune della biblioteca noi dobbiamo chiedere al webmaster che il sito sia compatibile con le tecnologie assistive è corretto? Sì e non solo mentre una volta ante 2018 il criterio di assegnazione dei bandi di questi incarichi era preferenziale per chi proponeva una soluzione accessibile oggi già nel 2021 è una caratteristica di accessibilità by default cosa vuol dire? che se il comune di Bergamo chiede e emana un bando per la creazione di un nuovo sito della biblioteca vince la società Alfa che poi si scopre aver creato un sito web parzialmente o non accessibile bene il comune di Bergamo magari dà appunto l'incarico di verificare se questo è stato realizzato può annullare e la corte di conti annulla il contratto perché l'accessibilità deve essere una caratteristica di default è come se io vi vendessi un'automobile senza airbag o senza freni non è vendibile perché non è a norma quindi è assolutamente una caratteristica fondamentale chiaro nel momento nel momento in cui posso certo prego nel momento in cui il il sito è costruito con queste caratteristiche cioè rispetta la queste dette temi di legge queste accortezze rispetto alle tecnologie assistive e poi invece l'utente finale va a fare a pubblicare dei nuovi contenuti deve avere delle accortezze o risulta automatico che il sito non so se mi spiego non avendo immediatamente il feedback no sto pubblicando una nuova notizia e io che non possiedo la tecnologia assistiva non mi rendo conto se come abbiamo visto prima il documento per chi la utilizza è leggibile oppure no cioè basta che il progetto diciamo così del sito venga fatto con intelligenza o ci sono anche accortezze che poi deve avere il bibliotecario o il responsabile dell'aggiornamento del sito che è tenuto appunto ad aggiornare le pagine assolutamente necessaria l'infrastruttura accessibile quindi il sito e poi abbiamo visto che anche chi inserisce le nuove notizie deve rispettare i criteri di accessibilità altrimenti avremo un sito diciamo strutturalmente accessibile ma con dei contenuti non accessibili motivo per cui la legge 4 2004 la legge stanca famosa dice proprio che deve essere fatta della formazione in questo senso perché giustamente come si fa a sapere come creare e inserire contenuti accessibili seguendo dei corsi di formazione e quindi si impara non è complicato e come si impara anche a fare dei test magari rapidi per carità però efficaci ecco quindi assolutamente è necessario continuare a mantenere il sito in stato di accessibilità quindi facendo della manutenzione cioè un sito è qualcosa è un organismo in continua evoluzione no? e il legislatore lo sa ed è per questo che obbliga la PA a pubblicare ogni anno la dichiarazione di accessibilità e ogni anno gli obiettivi di accessibilità perché nel momento in cui voi costruite una nuova sezione sul sito ma anche semplicemente pubblicato un nuovo pdf come dicevamo si pone sempre il problema dell'accessibilità quindi lo sviluppatore ha il compito di sviluppare secondo gli standard WCAG 2.1 cioè questo è quello che voi dovete dirgli ok? che ci deve essere scritto nel contratto sviluppare secondo gli standard WCAG 2.1 significa anche essere compatibile a tutte le tecnologie assistive ok? dopodiché nel momento in cui iniziate a popolare il sito e anche chi pubblica deve avere alcune nozioni di accessibilità che non saranno tutte le nozioni che deve avere lo sviluppatore ok? deve avere un inquadramento che gli consenterà di creare il documento accessibile pubblicare la notizia in modo accessibile mettere il testo alternativo all'immagine diciamo quelle 3-4 cose che una qualunque diciamo persona può fare ecco e non è necessario essere uno sviluppatore una domanda importante sulle scadenze la chiede Marco Lotto che dice 31 marzo giusto? è una domanda importante sì allora vi condivido ricondivido la presentazione che avevo tutte le scadenze non che le altre non lo possono una cosa che non ho detto all'inizio Marco che però ci tengo a dirla adesso manderemo a tutti i partecipanti sia le slide della presentazione che la registrazione del webinar che stiamo appunto registrando in modo tale che possiate anche eventualmente condividerla con altri colleghi dell'amministrazione o con chi si occupa per conto del comune della gestione dei siti ecco questo è quello che vi dicevo prima quindi deve il sito nel momento in cui acquistate un sito un portale di qualunque natura deve essere conforme alle linee guida WCAG 2.1 livello AA ok questo è quello che dovete richiedere e pretendere nel momento in cui viene consegnato lo strumento allora le scadenze annuali sono tre allora la prima diciamo è a marzo quindi 31 marzo vanno pubblicati gli obiettivi di accessibilità cioè cosa vuol dire va creato un documento che è una sorta di presa di impegno cioè la pubblica amministrazione dice entro quest'anno quindi ragioniamo sul 2022 entro il 2022 io mi impegno a risolvere una due tre criticità sul sito istituzionale ok oppure mi impegno a risolvere due criticità sul sito servizio online ok del mio comune ok dopodiché nel corso dell'anno la software house corregge quelle che sono le criticità che sono appunto incluse negli obiettivi di accessibilità quindi gli obiettivi di accessibilità devono essere reali ok devono essere specifici ok quindi riguardare funzionalità specifiche non lo so il sito del comune scusatemi il comune di Ancona potrebbe dire per quest'anno vi ricordate che c'erano i social che non funzionavano non funzionava la barra di ricerca può dire bene io quest'anno mi propongo di migliorare l'accessibilità della home page rendendo accessibile la funzione di ricerca rendendo accessibili i collegamenti ai social e rendendo accessibile il menu ok del mio sito istituzionale ok questo è un obiettivo specifico e dico entro quando cioè l'agis vuole sapere ok questo è l'obiettivo specifico entro quando me lo porti a termine me lo porto a termine entro ottobre 2022 ok questa è la la logica ok questo perché perché l'accessibilità come dire comporta sempre un un'attività di miglioramento no perché nella natura di un sito internet un sito internet voi lo create ma poi non è fermo no è qualcosa che è continuamente in movimento no è continuamente dinamico e che voi ovviamente con i vostri responsabili della comunicazione del web cercate anche di migliorare no di rendere sempre più user friendly per esempio no aggiungendo nuove funzionalità e così via lo stesso vale anche per l'accessibilità ok quindi per ogni anno vanno definiti degli obiettivi di accessibilità la scadenza è il 31 marzo ma uno dice ok ma gli obiettivi di accessibilità su cosa li definisco li definisci su sulla dichiarazione di accessibilità ok che va fatta invece entro il 23 di settembre se si tratta di un di un sito di un portale ok entro il 23 giugno se si tratta di un'app che cos'è la dichiarazione di accessibilità è una un documento anche qui c'è una procedura online che va fatta in cui sostanzialmente il comune dichiara il livello di accessibilità del proprio sito no quindi dice è conforme agli standard parzialmente conforme o totalmente conforme e poi va a dichiarare le parti dove non è conforme agli standard quindi il comune di Ancona dirà è parzialmente tu conforme o da quel che abbiamo visto potrebbe anche dire non è conforme ok e poi andrà a indicare le parti e le funzionalità del sito che non sono conformi agli standard WCAG 2.1 AA e quindi alla normativa ok e sulla base quindi della dichiarazione di accessibilità andrò a fare a costruire i miei obiettivi di accessibilità ok come faccio però allora a fare la dichiarazione di accessibilità devo fare una valutazione del livello di accessibilità del mio sito internet ok ecco perché proponiamo la valutazione tecnica no con la nostra soluzione accessibilità senza pensieri si fa la valutazione tecnica si fa la valutazione soggettiva quindi ho un report che mi dice il sito è in questa situazione ok sulla base di questo si fa la dichiarazione di accessibilità sulla base della dichiarazione di accessibilità e del report si vanno a definire gli obiettivi di accessibilità annuali ok e attivando un processo virtuoso quindi a fine 2022 il comune di Ancona farà una nuova analisi dell'accessibilità del sito istituzionale e vedrà e dirà che è migliorata la situazione migliore rispetto al 2021 ok perché ha sanato gli obiettivi di accessibilità ha sanato quelle criticità che erano indicate negli obiettivi di accessibilità ci saranno altre criticità che inserirà ok negli obiettivi di accessibilità per il 2023 ecco questo è un po' lo schema diciamo il workflow dell'accessibilità capite bene che è un processo ok è un processo che parte dalla dall'attività di analisi dalla reportistica e sulla base di questo si va a fare la dichiarazione di accessibilità e si vanno a fare gli obiettivi di accessibilità ok bene grazie Marco e non so se ci sono altre domande sì è arrivata una adesso che è oltre al V3C avete valutato anche il nuovo protocollo di design no perché in questo momento la la normativa fa riferimento solo al V3C VCAG 2.1 quindi per ora noi dobbiamo rispettare questa linea guida se verranno aggiornate le 2.2 però quando arriveranno gli aggiornamenti insomma sì credo che facessero riferimento più al discorso dell'usabilità cioè poi la PA ha anche degli standard proprio nel come vengono realizzati i siti il design del sito l'usabilità quella è l'usabilità però ecco non è non è l'accessibilità in certi in certi casi c'è una sovrapposizione fra questi due concetti però però sono due concetti distinti sono due concetti distinti cioè l'usabilità è la facilità di utilizzo ecco un sito può essere accessibile ma poco usabile quindi perché magari è complicato è tortuoso nei percorsi ok posso avere anche un sito facile da usare ma non accessibile perché magari che ne so è facile da usare per alcune categorie di utenti ma non è accessibile perché magari quell'interfaccia non è accessibile a altre categorie di utenti quindi non sono non sono concetti identici ecco sono sono distinti vi faccio vedere al volo queste famose WCAG 2.1 sono queste ok quindi vedete sono tutta una serie di standard ok numerati ci sono appunto dei principi fondamentali adesso non volevamo entrare in questo però volevo solo farvi vedere diciamo associare ecco a questa parola che state contramente sentendo quindi WCAG 2.1 che sta per web content accessibility guidelines 2.1 cioè versione 2.1 che è diventata la versione di riferimento diciamo dal 2018 2018 prima la versione di riferimento erano le WCAG 2.0 prima ancora c'erano le 1.0 Fabio prima vi ha detto che stanno perfezionando le 2.2 quindi ragionevolmente magari l'anno prossimo ci sarà un ulteriore adeguamento normativo che dirà che gli standard di riferimento non sono più le 2.1 ma sono le 2.2 ecco vedete che anche l'accessibilità deve essere continuamente seguita ogni anno anche perché cambiano gli standard ecco quindi è fondamentale ogni anno fare delle attività di verifica dell'accessibilità dei propri strumenti informatici una cosa che forse non vi ho detto ma che probabilmente sapete è che questa dichiarazione di accessibilità questi obiettivi di accessibilità vanno fatti per ogni sito per ogni applicativo del comune quindi non solo per il sito istituzionale ma laddove c'è un un dominio terzo quindi servizio online non lo so polizia albo pretorio eccetera eccetera tutti questi tutti questi siti che non sono sito istituzionale o diciamo aree a cui si accede mediante una un'autenticazione devono essere fatte seguendo appunto gli standard vocali 2.1 e per ciascuno di questi strumenti devo fare ogni anno la dichiarazione di accessibilità e gli obiettivi di accessibilità ok grazie Marco non credo ci siano altre domande nel frattempo se ne arrivano ovviamente le valutiamo non so se vogliamo fare un ultimo giro con Giovanni guarda mi inserisco io perché un intervento di prima mi ha fatto venire in mente che forse è meglio specificare un altro punto provo a ricondividere lo schermo così vi porto su un altro sito vediamo se ci riesco ok dovrebbe essere condiviso giusto vedete no vediamo lo schermo di Marco dovrebbe prima Marco uscire ok ho interrotto la condivisione grazie ok allora vi riporto su un sito che si chiama web web accessibile punto org questo sito diciamo è un po' un portale informativo di riferimento per chi vuole seguire un po' le ultime notizie di accessibilità legate ovviamente al web perché c'è un interessante articolo che si intitola web accessibile accessibile no nessuno strumento automatico garantisce l'accessibilità visitato invio no nessuno strumento automatico garantisce l'accessibilità ve lo faccio vedere no nessuno strumento lo ha scritto Roberto Scano che è uno dei massimi esperti di accessibilità italiana in realtà internazionale nel senso che ha contribuito alla scrittura di queste normative internazionali di accessibilità ve lo lascio un attimino in sovraimpressione ma ve lo semplifico a voce cosa dice Roberto Scano dice che nessuno strumento automatico quindi quei famosi plug-in di cui parlavamo prima nessuno garantisce l'accessibilità né dal punto di vista sostanziale quindi nessun plug-in tipo quando navigate i siti vedete alto contrasto aumenta dimensione ascolta leggi il contenuto quei plug-in lì non garantiscono l'accessibilità non solo dal punto di vista sostanziale ma anche nemmeno dal punto di vista formale cioè non c'è nessuno strumento automatico e automatizzato che permette di compilare le dichiarazioni di accessibilità e gli obiettivi di accessibilità quindi se per caso vi imbattete in queste soluzioni che sembrano come dire facili non vi mettono a riparo dalle richieste che fa Agile ovvero di compilare questi adempimenti e appunto non lo dice Fabio Lotti ma lo dice Roberto Scano che appunto è un massimo esperto di accessibilità scorrendo l'articolo dove nasce il problema a livello di accessibilità verifica umana automatizzata dice verifica umana o automatizzata le WCAG quindi anche qui non è Roberto Scano a dirlo ma sono le WCAG le linee guida che dicono che le verifiche devono essere incrociate tra dei test automatizzati quindi attraverso dei software e una verifica umana se proprio deve essercene solo una deve essere solo umana quindi non può esserci solo una verifica automatizzata perché non è efficiente e qui fa anche una serie di eventi esempi specifici di cosa non può fare perché il test automatizzato non è efficace e banalmente è il discorso di prima dei test alternativi cioè in molti siti troverete se fate delle prove se siete un po' così curiosi dei test alternativi un po' creativi per esempio immagine1.jpg quindi c'è il test alternativo ma è un test che non è coerente con lo scopo cioè informare il visitatore di contenuto dell'immagine semplicemente è stato incorporato il nome del file immagine1.jpg oppure per esempio i link ridondanti e generici quando viene a lato della news viene scritto scopri clicca qui leggi tutto continua a leggere se una persona va solo sul link non capisce dove va quindi quei link dovrebbero dire clicca qui per compilare il bando clicca qui per leggere la notizia relativa ai lavori in corso continua a leggere l'articolo sui premi del comune ok quindi questo tipo di lavoro un software automatizzato non lo fa ci deve essere una verifica umana che lo identifica e sempre attraverso il report umano si spiega al programmatore e sviluppatore guarda che in quel punto non è chiaro il link è generico devi modificarlo in quest'altro modo in modo che sia comprensibile e facilmente utilizzabile da tutti anche chi magari ha semplicemente un deficit intellettivo ma ripeto pensiamo agli anziani che sempre di più hanno la possibilità con i tablet di utilizzare questi portali in modo comodo ma se poi la procedura è complicata non è facile da intuire ecco abbiamo come dire uno strumento valido utilizzato in un modo non valido ecco questo è il portale se avete voglia di leggerlo in modo approfondito web accessibile punto org un portale informativo potete consultarlo anche cadenzatamente per leggere le novità se volete rimanere aggiornati in tema ecco quindi questo è un altro punto che avevo piacere specificare perché il nostro lavoro con quel gruppo di lavoro che vi dicevo è proprio fare un lavoro incrociato di test umani per andare a intersecare tutte le difficoltà e gli errori di accessibilità che le varie persone con disabilità in cooperativa rilevano nei siti per fare un lavoro davvero sostanziale per spostarvi ad un elemento premete le frecce controlli rinunite e se faccio il boschini alla situazione c'è un'altra domanda mi si chiede se quanto abbiamo appena illustrato vale anche appunto per ad esempio lo sportello dei servizi democratici ad esempio cioè dei servizi digitali come può essere uno sportello per servizi democratici cioè chiede se la dichiarazione accessibilità va fatta anche per ogni servizio digitale sì 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 assolutamente sì mi permetto mi permetto di intervenire è giustissima la tua risposta cioè rispondo ovviamente a tutti in particolare se appunto è www.comune.castelnuo.magra.sp.it slash qualcosa naturalmente ricade ricade nella chiedo scusa l'ostante ricade nella come dire nella nell'analisi esatto del portale istituzionale se invece è come dire ha un ha un indirizzo web diverso anche se magari con decidenza comune punto castelnuo.magra eccetera eccetera naturalmente lo si considera un altro portale faccio l'esempio perché è un lavoro su cui come copera di Vallea ma in particolare Fabio e Marco stanno lavorando l'Università di Verona immaginate l'Università di Verona ha 98 siti sì c'è il primo www.un.dr però poi c'è tutti i siti relativi alle facoltà alle iscrizioni alla guida dello studente all'accesso mensa eccetera eccetera e naturalmente la riguazione di accessibilità va fatta su tutti questi portali l'esempio classico è questo della nostra proposta noi faremo l'analisi del portale istituzionale www.comune.crema.cr.it poi il sito visitcrema perché magari ha una estensione leggermente diversa poi magari lo sportello telematico appunto dei servizi messi online messi a disposizione della cittadinanza il pago PA eccetera eccetera perché chiaramente sono tutti portali per così dire come dice giustamente Marco Bruma leggermente diversi rispetto al portale istituzionale istituzionale non va fatta per tutti questi proprio perché sono estensioni diverse ovviamente lo slash che viene seguito da qualcosa fa parte del portale istituzionale cioè www.comune.crema.cr.it slash comunale ovviamente rientra pienamente nel portale www.comune.crema.cr.it grazie 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 Giovanni della precisazione insomma ecco sì sostanzialmente se è anche facile da capire nel senso se il il sito per capire se non se non rientra nel sito istituzionale basta vedere insomma se ha un'interfaccia diversa se ha un si va a guardare il dominio ecco molto spesso ci sono anche fornitori diversi no? quindi è abbastanza semplice capire se fa parte appunto del sito istituzionale oppure no ecco noi come servizio accessibilità senza pensieri abbiamo scelto di concentrare l'impegno sui cinque siti più in genere sui cinque siti più importanti per per una PA ecco soprattutto per quelle quei comuni diciamo medio piccoli che magari non hanno tantissime risorse o comunque e comunque hanno magari un numero elevato di portali ecco noi suggeriamo di identificare i cinque più importanti e partire partire da quelli poi nel momento in cui magari si raggiunge un ottimo livello di accessibilità su quelli si può passare anche ai successivi cinque naturalmente li scegliete voi cari amici e cari amici ovviamente cioè ce li indicate voi come fanno i clienti che ci chiedono l'intervento chiaramente sì l'ordine di importanza può essere ovviamente specifico di le offre specifico ecco per essere chiari diciamo noi ci proponiamo per sgravare la pubblica amministrazione da questi adempimenti come avete visto comunque sono tecnici e vanno studiati non sono così immediati allo stesso tempo è una collaborazione nel senso che si instaura un dialogo e sì ci prendiamo noi l'incarico di fare tutti questi adempimenti ma lo si fa sempre in stretta collaborazione e condivisione con l'ente che ci affida l'incarico proprio perché si va assieme a costruire un percorso vicuoso molto spesso almeno triennale ecco proprio perché si fa un orizzonte di medio termine per fare un lavoro di sostanziale accessibilità nei prossimi anni sì intervengo scusate sempre di nuovo perché stiamo parlando appunto di operatività e strategia tutto quello che è stato detto nei fatti rappresentano un po' i nostri punti di pubblicità cioè le due verifiche tecniche soggettive questo accompagnamento dell'ente verso il bucate 2.1 doppia senza pensieri cioè senza oneri agravio di tempo per le figure coinvolte la triangolazione con la software house la formazione quindi il trasferimento di una wow per elaborare contenuti appunto che non vadano ad unificiare l'accessibilità le famose etichette legibilità e così via costituiscono nei fatti cioè ci rendono praticamente sotto questo aspetto leader unici di mercato la proposta come è stato anticipato ovviamente nel caso dei comuni virtuosi giustamente perché non vogliamo collaborare con i comuni virtuosi perché riteniamo questo aspetto un elemento di virtuosità appattuale per così dire e per cui prevede naturalmente una forma di chiamiamola così di benefit che potrà essere sia finanziari sia naturalmente di servizio che renderemo devo dire che avete già avuto delle dritte come avete visto potreste avendo il tempo potreste domani già intervenire su qualcosa interpellare la vostra software su qualcosa il vostro provider ripeto per l'ennesia volta perché tante volte si fa confusione la differenza appunto di accessibilità e usabilità quindi usare un sito da cross browser non significa per forza che sia accessibile ripeto per l'ennesima volta noi non ci sostituiamo ai vostri fornitori non ingegnerizziamo siti portali modulistico online eccetera eccetera e naturalmente come dire aspettatevi che il sottoscritto qualche giorno possa chiamarli appunto per dare seguito a questa piacevolissima appunto formazione per me personalmente è stata una boccata d'ossigeno anche dal tenore delle domande e degli interventi insomma è veramente stata una boccata d'ossigeno però devo dire che anche nella bella esperienza che stiamo portando avanti insomma il termine accessibilità nel senso reale concreto con cui lo intendiamo sta facendo penetra ecco penetra nei referenti mi rendo conto che rispetto alle prime telefonate di qualche tempo fa oggi si parla più diffusamente più chiaramente di accessibilità e questo è un bene questo è un bene per tutti ricordiamoci che l'accessibilità può essere anche temporanea cioè pensiamo a persone io faccio sempre l'esempio fisico delle barriere delle barriere architettoniche cioè lo scivolo non è semplicemente per chi è arrivato su una sedia a hotelle vale anche per il passettino di una di un bambino di una bambina portato dai genitori e da un adulto e vale anche per chi ha una 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 protesi momentanea un arco cioè ricordiamoci sempre questo e questo vale anche per l'accessibilità digitale grazie Giovanni grazie Giovanni grazie Fabio e Marco penso che questo incontro possa assolutamente essere l'inizio di un percorso un percorso che deve passare necessariamente insomma mentre parlavate anche dai siti che come comuni virtuosi gestiamo quindi dal nostro sito istituzionale e dai siti che hanno a che fare con i nostri progetti quindi penso al sito del Festival della Ventezza penso al sito della Scuola di Altre Amministrazione insomma dovremo anche noi farsi carico di di renderli il più possibile accessibili e quindi coerenti anche con la filosofia che cerchiamo da 16 anni di portare avanti quindi io vi ringrazio vi ricordo appunto che manderemo ai partecipanti le presentazioni e il link per poter eventualmente rivedere pezzi dell'incontro di oggi e verrete poi contattati tra qualche giorno dalla cooperativa per valutare eventuali forme di collaborazione nel tempo quindi grazie a tutti e a tutti e buona giornata grazie davvero a voi a molto presto a tutti grazie grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi